Qual è la società attuale? Dove molte donne che vorrebbero veder riconosciuti i loro diritti perché lavorano, perché contemporaneamente lavorano in casa, lavorano fuori, perché crescono i figli, perché assistono gli anziani, perché tante delle loro attività sono attività che veramente portano, costituiscono proprio il nervo portante della famiglia, non vengono riconosciute perché non sono economicamente rilevanti, non portano danaro, non fanno affluire danaro in famiglia. Quindi queste donne si sentono molto negate, quindi è un aspetto da sottolineare, non hanno tempo per sé, quando il loro compito finisce si accorgono per esempio, arrivati alla maturità piena, che tempo per studiare, per coltivare aspirazioni, idee, anche parti creative di loro stesse non c'è stato. Io ascolto molte volte queste donne che magari hanno 57, 60 anni, proprio stanno tra la fine dei 50 anni e l'inizio dei 60 e che sentono proprio che la loro vita è passata dando a piene mani agli altri senza che questo venga loro riconosciuto. Sono violenze che spesso vengono sottovalutate e invece sono importanti. Ci sono poi le violenze fisiche, cioè il fatto che queste donne sono il cestino dei rifiuti, delle rabbie dei loro mariti, dei loro compagni. Una violenza molto grave per esempio è che nel fiorire degli anni tu sei accettata sentimentalmente e sessualmente quando questo declina. Ci sono donne molto più giovani che vengono magari anche in questo momento anche da altri paesi eccetera, che possono ancora dare dei figli a questi uomini o possono ancora comunque a motivo anche di una ricchezza acquisita nel tempo dalla famiglia, essere, come dire, dare a questi uomini un'idea di potenza, di mascolinità e allora in questo momento queste donne si vedono messe da parte proprio perché ce ne sono di più giovani, di più belle e non solo, ma di capaci di dare ancora dei figli. E quindi scatta un meccanismo che da noi è veramente inaccettabile perché la cultura delle donne è andata molto avanti, le donne si sentono comunque, sentono il desiderio di essere riconosciute. Di essere riconosciute e da che c'è la legge sul divorzio il meccanismo è che ci si lascia. Anche questa è un'altra realtà che addolora moltissime donne perché comunque costringe anche una violenza psicologica, anche la solitudine. Cioè voglio dire per tanto tempo io ho fatto famiglia, ho accompagnato degli anziani che invecchiavano, che erano i miei suoceri, che erano i miei genitori, ho cresciuto i figli, ho accompagnato un uomo e poi mi tocca una solitudine che è un'altra forma di violenza psicologica importante. Noi siamo, mi permetto di dirlo, in una società malthusiana, una società che invecchia. Quindi molte donne nel momento del declino si trovano da sole. Questa è una violenza da sottolineare. Poi ci sono le violenze proprio quelle sistematiche, l'essere picchiati, l'essere umiliati, il temere di dover andare per strada. Qui parlo di donne giovani come di donne meno giovani, ma comunque parlo delle donne, il timore per esempio di essere delle prede. Quindi c'è l'invidia del cacciatore. Io mi muovo come un uccello, cammino, sono in libertà e però posso essere in ogni momento proprio l'oggetto del cacciatore, essere la preda. E questo è un sentimento, dico un sentimento, non una sensazione, è un sentimento. Proprio è una condizione che, ahimè, fa parte della cultura delle donne. Questo tipo di condizione trasversalmente proprio accomuna le donne di tutte le generazioni che in questo momento ci sono nel nostro paese. E non solo, ma è sottolineata in maniera diversa anche dalla presenza di nuove, di donne che vengono da altri paesi, di nuove realtà femminili. E queste nuove realtà femminili si comportano in modo diverso rispetto alla loro presenza nel sociale. Perché anche a motivo della impossibilità di essere libere rispetto al comportamento di tanti uomini, io non parlo di tutti gli uomini, parlo di tanti uomini che così si comportano, che sono predatori, molte di queste donne vengono tutelate, tra virgolette, con la limitazione della loro libertà. Io parlo di molte donne che per tradizione religiosa e cultura, avendo come giustificazione anche, non puoi essere esposta, devi non attrarre l'attenzione, non hai la libertà di andare perché puoi essere vittima, ci vuole una tutela, hanno una limitazione del loro movimento. E questo fa parte di tradizioni religiose che giustificano, o tradizioni culturali, che giustificano proprio in tutela anche delle donne, un modo di essere vestite, un modo di poter muoversi. Quindi non ti muovi se non sei accompagnata, devi usare un certo tipo di comportamento, comunque devi usare certo abbigliamento, puoi muoverti soltanto se accompagnata, puoi muoverti soltanto in compagnia di, sei sotto la tutela degli uomini della tua famiglia, che ha anche un significato andandolo a verificare, ma comunque è limitativo della libertà o comunque della possibilità delle donne, poiché c'è una condizione delle donne che è legata al fatto che comunque potrebbero essere prede. Quindi oggi ripensare alla condizione femminile è molto importante per tutte le donne, per quelle che si sono emancipate e liberate, e che ahimè da questa emancipazione e questa liberazione hanno tratto certamente alcuni vantaggi, ma anche tanti svantaggi e tante difficoltà. E quindi va ripensata non per tornare indietro, ma per affermare diritti e farli rispettare in generale. E per quelle che invece fanno parte di culture dove questa emancipazione e questa liberazione non sono accettate nelle modalità nelle quali la cultura delle donne che hanno fatto il femminismo va. E quindi ripensare insieme, ripensare proprio, sono mondi femminili che devono, culture al femminile che devono essere, si devono confrontare profondamente. Questo è il punto io credo, perché così possiamo capire anche in che modo le donne veramente sono trattate, quante sono le violenze e quali sono veramente i cambiamenti che le donne devono fare per allearsi tra loro. Vorrei parlare poi di una violenza formidabile, che non è solo la misoginia degli uomini, la misoginia al maschile, la misoginia al femminile. Quella è veramente una terribile violenza. Molte donne sono nemiche delle donne. Le donne che sono diverse da loro non sono accettate. Non c'è ascolto per delle donne che sono diverse o possono essere addirittura o più potenti o meno capaci. C'è proprio una lotta tra donne, spesso per il possesso di una condizione o di una possibilità accanto ad un uomo. Non ci si rende conto che la lotta tra donne, anche quando si tratta di un rapporto sentimentale con un uomo, è una lotta comunque sbagliata, è una lotta comunque che non dovrebbe essere aperta. Cioè le donne dovrebbero sempre considerare non solo non comportarsi con gli uomini come gli uomini si comportano con loro, certi uomini si comportano con loro. Perché significa entrare in una modalità di comportamento che poi diventa, fa parte di una cultura che noi combattiamo come donne. Quindi quando si adottano le forme peggiori della cultura al maschile, significa che poi si aderisce al modello che ci perseguisce. Ma quello che è molto importante è non essere mai contro le altre donne, cioè cercare di veramente di aprire un dialogo con le altre donne e semmai stigmatizzare comportamenti femminili che fanno il gioco di situazioni che sono veramente contro le donne poi alla fine. E dal punto di vista delle leggi, e dal punto di vista dei diritti, e dal punto di vista del rispetto delle donne all'interno della famiglia, e sul luogo del lavoro, e all'interno dell'educazione, e in rapporto ai bambini. Io credo che questo sia molto importante, che questa sia una forma di violenza molto grave che le donne fanno alle donne.